Hanno tolto i camici e preso la penna per raccontare emozioni ed esperienze vissute in prima persona durante l'emergenza coronavirus e così l'hashtag lanciato dai medici del Policlinico di Bari e adottato da tutti gli operatori sanitari impegnati durante l'emergenza diventa un libro. Io resto in corsia pubblicato da Adeditore presentato nel Palazzo Ateneo di Bari racconta con immagini e parole i giorni vissuti a stretto contatto con il virus nelle corsie dei reparti tra le barrelle del pronto soccorso nelle stanze di isolamento di malattie infettive e tra i monitor della terapia intensiva ad immortalare l'umanità e l'impegno dei professionisti impegnati nella lotta al virus il fotoreporter Cristian Mantuano che ha realizzato un vero e proprio reportage nel Covid Hospital del Policlinico. Abbiamo vissuto dei giorni difficili, adesso possiamo dire che siamo un po' fuori dal tunnel e il libro però credo che sia una testimonianza importante di quello che tutti noi abbiamo vissuto, mesi di impegno, di lavoro per la collettività per combattere il Covid-19, questo nemico invisibile che improvvisamente ha fatto capolino da noi e che dovevamo affrontare. Ciascuno di noi ha dato il proprio contributo per questa lotta. È una testimonianza, è una testimonianza fatta dai nostri professionisti di un periodo che ha lasciato dentro di noi e ha segnato soprattutto un cambiamento nel nostro modo di lavorare. Noi abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato insieme praticamente per tre mesi H24 e questo insieme ci ha consentito di avere i risultati che la Puglia ha ottenuto rispetto a quello che abbiamo visto in altre regioni d'Italia. Non abbassiamo la guardia, siamo preparati, abbiamo disegnato dei percorsi che continueranno ad essere sicuri e questo ci consentirà di affrontare con più tranquillità e certamente con la competenza dei nostri professionisti quello che noi ci auguriamo non arrivi ma che comunque sarà gestito in maniera molto professionale e in piena sicurezza.